sarà sceso però metto il vascio, abbassa i modi va a vedere, va a vedere mi cugina che che attrice fammi vedere va a vedere su Instagram mi è mandata? no no aspetta, è venuta avanti la ritrovo ah, ma è uscito Rika chi? Taitans quello su Netflix ma lo hai pensato su... eh, si, su Netflix ma per il calmo di ma per il calmo di di ritorno delle stelle morenti eccoci, siamo noi Morganella cdc su... si 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 madri prima prima ah no pensavo un grande perché si pensi a due ma in basso arrivi a tre si 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 aspettava la live troppo forte ritorno ritorno di salzarelli e morganelli ma che mai hai visto? angolo destro attaccante eh, non hai capito perché no, perché prima stavi sulla faccia, no? ah, ok lo sto a cambiare tutto rigori super salzarelli ma voglio eh, beh c'è una una cosa realizzativa tipo uno su dieci però buono sempre sempre la attirare il rigore guarda che su pro club uno su dieci non è da sottovaluta no, per niente proprio anzi a Riccardo Ricca? eh abbiamo trovato il primo giocatore della Epic che ha segnato il rigore tirando nell'angolo dove si è buttato il portiere eh eh no, è buco wolf impossibile si si è una cosa non è mai successa dite il tuo record eh hai capito? è un fatto proprio raro qua siamo tornati intanto eh ma che succede? con le canale si muove tutto strano per il coppone se eh dobbiamo vincere tutte e tre le partite Dani devi farla bene però stamo live eh capito? a ricomincia a laga ecco 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 no eh questa laga come laga azioni interrotte si si ma rega ma laga pure a me eh mi sai proprio a partita no me no me no e alla siamo noi no c'hanno il qualsiasi o i difensori? no c'hanno il qualsiasi o i difensori? no c'hanno il qualsiasi c'hanno il qualsiasi no non è il qualsiasi uno è morto eh no ma a me me l'ha ripreso eccolo eccolo ma ancora il gioco pericolo è un bono dai rega che siamo carichi eh siamo tornati che la vecchia formazione poi si ah scusa tranquillo guarda che vincente cambio fa niente Dania ha spazio per avanzare dai fa niente Dania ho fatto ho fatto Daniel ha capito Daniel ha vado Daniel l'ha capito Daniel ieri di salzano c'ha sempre il lag che ormai riesce a parlare l'uomo del lag segnali parla in lagchisi grande subito salzano quella riesco ormai ha dato per l'aggese parla vanno la cate capis pure se dici solo una lettera lui sa che la frase anche tu laggese? nooo mamma mia due volte che l'hanno levata fa bene eh occhio al contrappiere via c'è campo per andare ruba bene il pallone ma perchè l'onzolano chi pensa lui fernando lonzolano oh Riccardo non ce lo deve manco dire eh eh infatti non parlando io non lo lancio dai la recupera cazzo c'aveva oh razzar culo o metterla in mezzo la prossima e dunque calcio l'angolo dai dai pallone in mezzo la difesa alla meglio e allontana il pallone ancora no scherpalla de merda raga scusate ma lo lancio diego che sei che sei inventato questo ma era per te Ricca vabbè Ricca ma andò vai perché io vai tanto non è che si sente? perché andò che falle questo doveva per culo tutto il tempo prima stava tutto zitto era un gattino aspettate la live piave per culo tutto sto tempo è trattenimento è trattenimento è trattenimento si affilate le unghie ma no ma stavo zitto ooooo meno male che non è entrata come fanno schifo a giocare a pallone devo intrattenere a parole che è il giro ero ti è il doppio passo che ho qua è il giro la traiettoria verso il centro attenta qui la difesa alla allontanata ma che buono va bene no sto lancio no poi gioco si riparte col calcio d'angolo palla messa in mezzo si mette i pugni e allontana bella tira bello ma cosa ho fatto ha utilizzato qua mamma mia che è un biglietto questo che posa ho fatto una posa all'acleti dei amici ho ricordato c'è stato carison è bravissimo ma che buono vai a ripresa spazza via il pallone no vai 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 è la mia oh me stanno sformato no la data è la mia ma pro salza vedi là eh io me la metto il problema è folle mamma mia no troppo altruista no va per nambi da per numero la palla si dà senza è un tocco sulla fascia vuole un pallone lungo in scioltezza o l'è la palla distribuitano ragazzi e diego io fai grande mamma mia mamma mia che squadra siamo tornati siamo tornati è tornata la padrona è tornata così no bello portace ciao a mandare al portiere vabbè ha pure tirato una sveglia possiamo rivedere il gol da questo ma al primo palo di rubrio non troppo fortunato quel portiere vero non ci sarebbe comunque arrivato allora intercettiamo senza problemi abbiamo deciso il botti ci vuole va bene la macchina bello bello oh questo era fallo si ripartirà con un calcio di balcino ah meno male che stavo un po' di gioco io oh mamma mia no ma che è un colpo da biliardo hai fatto no hai visto che cioè hai fatto in pratica il cucchiaio di testa all'indietro eh colpendo in avanti niente peccato è la camera no rica è la camera no è la camera no è la camera no è Zanelli o sto vecchiaccio ma magari hai da sua correo così è da sua perché quanti anni c'ha dai fai 50 che mi ha portato la torta grazie ma c'è la torta paradiso oh no buono palestra palestra poi poi no ma da me lo stesso pure a me ma è pure bella tosta è grossa io lo so bagnato il ciambellone beh già sai quello che mi devi portare domani allora non riesco a mangiare tutta mangiare mangiare mentre fanno i bicivi torta ai bicivi magari insomma cercano spazio magari se facciano così quello si olè eccolo che taglia sul primo pezzo di torta adesso ogni giorno pezzo di torta no però ma domani ma domani ma domani ma forchetta perché se no faccio un bordello bella ti è grande ma perché gli hai segnato eh prende hai segnato te ma che io ho messo a mezzo la palla era in coppia vabbè guarda un'altra non usa il zanelli no vabbè era difficile sta laggata è brutto eh ma noi le lagghese non lo capiamo quindi cercate di rimanere oh vabbè guarda gli hanno levato quello sarà di bestemmie proprio su bello bello mamma mia bella ma che squadra ma io non commento più ormai il squadra questo è proprio per quanto eccolo ho parole dell'azione che abbiamo fatto questa è da salvarsela come ho fatto proprio schifo regà ho fatto proprio schifo è bello che l'hiamo toccata tutti l'hiamo toccata tutti i passaggi importanti poi ne è che abbiamo fatto passaggetti è quello cioè è proprio azionona e poi è partito da un passaggio De Diego e finito con un gol De Diego vabbè ho capito la ciliegina sulla torta tu Riccardo che mi è passata la palla mi ero più obituato ma ha passata De Petto bello va bene va bene anche se non te ne hai quel passaggetto a Morganella pure però era troppo era troppo invitante quel tiro 5 a 1 era giusto così sì sì e poi ti ha detto pure male ma va bene tanto presa mamma mia che nome io alleata dalla capoccia palla recuperata azione interrotta ecco il tiro no non ci ho creduto vabbè quelli con il quartiere li fanno poco neri regà sì sì oh è tutto solo passa che va bravo bravo questo è poco un deficiente sta a sbroccare questo sarà a dire peggio guarda qua sta rosica si è brutto ha creato pure quell'altro ha creato già 65 si muove sta andando a buttare cagliare regà c'è no il tempo passa e ci avviciniamo a un risultato sorprendente la squadra partita lo ricordi mediando una brutta lezione una lezione giocava di quella stonbilla non vuoi giocare ha giocato pure al csk ma era meglio che era fuori gioco dopo che ho visto che l'è andata a finire qua la palla eh però era bello è bellissimo bravi addirittura prestazione fuori gioco buono buono tira 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 eccolo ma lo prendo ugualmente secondo secondo bello sul secondo boom da caprese matteo quanto c'è ancora da giocare dai la ponte di mani 15 minuti al novantesimo bene matteo per ora può bastare grazie pulisce la trequattina pulisce la trequattina pulisce la trequattina pallo per noi vale l'arbito sta a giocare con noi praticamente quel pallo ne esisteva proprio il recupero possono ricominciare il pubblico di casa sembra quasi rassegnato di fronte a questa partita quello che non ha testato qui quello che non ha testato qui hanno ben poco da festeggiare vengo Morganello no no dai questo sto a bambino andiamo da Matteo Barzaghi a porto campo per sapere quanto resta ancora da giocare sono trascorsi 80 minuti ne restano altri 10 da giocare ricevuto ma pure la macchina che piccola pure salta l'uomo occhio al traversone occhio al traversone bello madonna madonna che palla madonna che palla madonna che palla e l'ha raggoppato sono tornati sono tornati sono tornati e mosso a cavoli per loro è una vita che non facciamo più di tre go mamma mia mamma mia ha detto il tre qui sta un cioccolatino solo da scartare pensa che palla l'altro l'altro dopo se palla maia davvero dopo la torta pure il cioccolatino che maia ho sbagliato il parone che legge bene tutto pallone ah no scusami era buono era buono non so credito a metri per correre sull'ansia Non sei l'attaccante te dove vai? no suse dell'quartista ciao diego ciao diego mamma mia cazzo sta succedere non solo meritavamo sta pure sul tap or codici per segnate c'è tutte ci sei dovuto mette mezz'ora prima io ho fatto ci fermo mezz'ora sì 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 ti ha messo proprio l'impostazione di come metta a sete poi mettere giocatore per traverso poi se non sbaglio devo premere r1 capito da me sta facendo due con le tre a città io che mi ha mangiato due partiti disponibili due partiti disponibili e due vittorie da fare dico che mia madre è sai da casa solo per portare la torta pensa quanto mi vuole bene che sono amica l'amore vero si io poi dicono che amore è tra tra i ragazzi il tema più da mamma fatti sia è però pure una che c'è il coraggio di succhiar pisello vostro metta sottovaluta come cosa oh danni è nato uscire uscire danni uscito rega usci dove fia godi riuscì eccomi scusate è tornato ferocci esci che il danni è uscito come ci sono stati in attesa dall'avversario un po so fa niente non mi fa fermi cerchio no di voi da solo è ti giuro non mi fa fare niente questa sezione non è più disponibili vai vai tutta fagio per co***o diego no addirittura non ho metti i ruoli da niente invece che il cucchiaino ha servito con taglierino ma si è mangiato il cucchiaino si è mangiata la torta che prende la parte che si sarebbe mangiato questa faccia a loro sono diviso e zucchero a velo sopra era tosto sto sto coso zucchero capito che gli avalati fanno il giro che la torta paradiso è capito che la scusa fa manda a portarmi copiato mezza è il vero paradiso non dà nell'occhio così se no si capisce diciamo perché ogni porta io vado a cuore donna ma c'entra è tutta dei cartoni no che dentro è piena di roba la classe è finta no che è solo un pezzetto che sta mangiando un giro dai che sta fermo che è successo arrivo bello nooo attento qui buona 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 perché mi ha la torta cazzo mi ha salto cazzo mi ha salto per botte si è sentito un attimo gr si è sentito il retropassaggio verso il cordero morganetta ancora buono ma la lunga sul secondo palo dai oh ma hanno venato chi è ora bu apre il gioco morganella ma questo mi sta a bloccarsi infatti occhio a questo lancio boom ah no buono 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 senza fronzoli pala che finisce fuori ma l'artruismo non è mai in errore senti l'ora tante lezioni di video si si mi sono mancate però nooo piano ti è che gli fa male non la tana verrà mai che il troppo artruismo vero scusa da tranquillo boom piano ti è che gli fa male i altruismi mi fa sempre bene d'altronde l' altruista ha pensato al portiere oh ecco lo si stava di fare piano piano salì a potenza finalmente al prossimo tiro allora segna al prossimo tiro sono sicuro che segna io al prossimo tiro va fuori alla porta perché troppo a potenza era quello il tiro che segna il portiere ha preso era pure un bel tiro cazzo io l'inizio a via portiere senza costa zanzara che ma con mirano ma capo piano da lì e poi di vice entrava quello è il problema mio e quello è il problema mio vede scoperto cazzo è il problema dei tutti bello no 1 va bene va bene l'italia di qui che stava messo male da 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 la vita la vita se ti ho venuto i 10 ora di se volete per favore di te la vera valido a panoramore di g a a voglio raggiungere che è un è lasciato un mamma e papà io che è rientrata prima mamma la lasciate ma chi è attaccante quindi riccardo quindi si dice uscire marika giacca prima partita non è fatto manco un fuorigioco te voglio proprio bene vuol dire vuol dire questo tempo di pausa non era fallo proprio ma la so proprio vip secondo prima era passata sul secondo buono bello e subito che mi parla che mi ha dato attacco alla gr era facile che stai da solo oh sta zanzara ha proprio appuntato si perdonami tranquillo mamma mia cazzione che mi ha dato il contrasto vai grande taglia grande taglia oh regà in crociopieno vedi ti dico forte da tirà così no bravo bravo però ci sei riuscito solo al decimo dino va bene però già l'ho fatto in due e te ne ho quattro ti è ancora che deve riuscire va bene vai mo se riscatta subito eccolo se riscatta subito no troppo altruista va bene va bene va bene ma la faccante ma io mi devo segnalare gli ha presa l'ansia del gol a Diego no come dice Riccardo troppo altruismo non va mai criticato troppo altruismo non si critica mai grazie eh vabbè ma se l'artruista è quello che segna più di tutti no c'è da avere qualche problema ah sì eh dai pia è ammirevole fino a quando non siete rientrati voi ci ha accampato Diego ah no ho capito eh bombe c'ha passato bella 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 bellissima ho crossato oh e calca bene così il recupero segnalato dal quarto uomo e vediamo cosa ci riserverà il difensore va ah sarà il corner buono buono no regà io lo segno a porta vota eccolo eccolo no non è possibile comunque so tre legge tre legne e un gol eh regà no per imbattare tre tre rimbattare fatti pure a te pensa che c'è uno hai preso pure quando hai segnalato eh hai capito ho calcolato quello 15 tiri dai squadroni domini assoluto no occhio che la torta paradiso non so che ha divisi le quattro è la torta paradiso non sarà il nero paradiso ma tu cosa capisco e tu balla è la torta è la torta e alla posa per cucchiaio per chi cos'è per il cucchiaio per chi è il cucchiaio no buono buono no no vedi come hanno fatto oh ma andare arrivato ricca hai visto quanto cazzo è startato ecco l'unico scusate addirittura blocca alla sticca non ci credo oh guarda come se ne è andato oh mi marcano a vista mi marcano oh no adesso no oppure la famo dopo amicchia guarda ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah sto per gioco a quattro non so riccardo a quattro amici si riprenderà con la ripresa laterale bravo eccolo nooo spazza quello che culo stavo con l'auto riviera buona rettura del difensore sul brutto passaggio ah bello ma bello d'alta palla nuovamente in possesso possibilità per la ripartenza scusa bella buonissima mamma mia nasce eccolo o cura spaccato bravo bellissimi 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 raga ho sentito ho sentito bellissimi soffidato dell'esperienza hai fatto un bello ha fatto un bello con me quelli sieri erano le giovanissime erano le giovanissime assaggi intercettati bello no perfetto no ma dai come fai non bene non sapeva passavo subito vabbè martuosa pura importati in avanti infatti ciò che la barra però non scriviamo città 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 buono anticipato il difensore si prova la botta uuuuuh mamma mia forse regalano lo dirigiamo eh la palla centrale che la mano dirigia la rega si chiama la palla ancora che la mano dirigia non era per te di capito perché mi ha fatto è ronoso ma non che so oddio peccato scusa ricca no era buona era buona boom da me è scappa dai giù che palla pebre bello basta un tiro più ho esaurito la dose ho esaurito voi sapete che succede quando oltre per culo vai tiè vai tiè buono buono quello si chiama prrr vai tiè intercettano bene i palloni madonna comunque provo un brati per mio mamma mia che sei inventato io non volevo tirare però dopo quella cosa dovevo tirare per dargli l'assist vaffaculo dove sono manco io che ho fatto oh ma quelli sono quelli dei nastri è quelli giovanciosi di noi lms vero no mamma mia di quanto 10 millimetri ero partito nemmeno ma pensavo che eri in bot te l'ho chiamata come il borde nessuno di due ho fatto ho detto chi sono senti di due cazzo bocca così 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 stai giù stai giù stai giù stai giù oh ma sarò che te fa una piastra sti capelli stai giù stai giù stai giù che guru stai giù cazzo stai giù il gioco mannaggia ma che mazzo pazzito polle oh guarda come la tiene questo botto non vedi oddio mio o dirlo ricca quando di che gordi e dirà ragazzi una partita una vittoria e famo lo screen all'uomo gatto garza il poppone ma perché si vengono ma sia successiva rega si andiamo a riprenderci la divisione che ci merita a me dai devo raggiungere quella che proprio ancora 12 uscì che danni uscito ma perché mi ha fatto ci uscite sicuramente non ha detto sono necessari almeno due giocatori sono uscito io rega non sono uscito no io non sono uscito scusate perché ho visto io pure pure io che a me mi sta ricerca partita in corso c'è diego ancora e no io me bloccavo mentre bloccato come prima a quando uscite tutti metà il mio blocco almeno avevo la parla salzanelli si può metter il capello nuovo se mi rifaccio guarda che noi faccio rega aspettate rega va a preparare tutti i biondi dai no è che c'entro io dava deve tutti i biondi rega non metà bloccato esci dal gioco chiudi l'applicazione un po potete entrare come se girava rega mese gira r1 pensa a rica ci dovessi guardare stanno identici ah no non proprio acqua sito ai miei a a cazzo un po che parola ci sta l'attore dopo che preferisce al mondo ricca dove jake gil e l'auto il nata dal primo febbraio su netflix velvete woods su non so che cosa fosse una serie non sono solo un film ma magari niente mi devo farlo rampante no però però biondi america c'è l'attore preferito due staff al film e manco sai davvero vergogna che torna alla riscossa con il nuovo capello eccomi un paio dei capelli che massimiliano di più a questi cioè entra da niente così intanto metti i ruoli mattina mattina partivo un attimo manca riccardo un secondo solo e c'è un power up in corso che cos'è il power up? una canna ma che cazzo dici? mica Danilo si fa le canne quelle sono con Riccardo però Riccardo sta della sta a fare canne vere dico Riccardo e te dovresti trovare quel topo ascenso che fai? ma la girata pure a me mamma mia sai che gli ho risposto? ma che è un pokemon? io c'è sto quando volete preferisco trovarmi una tigre si come Alan tanto tu avresti fatto come Alan cazzo dici? cazzo dici? cazzo dici? chi è? cazzo dici? cazzo dici? hai visto quello che ti sgozzo come un capretto? nooo non l'ho visto ma come no se mette Tony F e minaccia Gallagher mi aspetta un po' un momento subito ci sgozzo come un capretto minaccia eh Riccardone basta alla fine me lascio quelli di sempre Gallagher minaccia l'ultima cosa devo guardare ma l'hai vista la parodia di quei due youtuber come vogliamo chiamare eh? che fanno Calcutta, Carbrave, Tommaso dei coli nooo come si chiama? le coliche mi sembra ah ho capito chissà quelli che pieno per culo a trap, l'indie si 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 ho capito chissà eh non so se hai visto quel video no quel video no tu lo devi vedere Faride a voglia in pratica a Tommaso Paradiso la parodia di cioè a Tommaso Paradiso, Carbrave e e coso e Calcutta che vanno alla villa della trap eh e non si dovevano far riconoscere no? dice che sono Tommi Inferno e lui Calcutta e lui dice tu come si chiama? Calcutta e usavano per sgamare no? attimo di silenzio lui fa lo Calculo dice che canzone avreste fatto voi? non vi conosco una trap eh Tommaso Tommi Paradiso che faceva mi ho fatto questa nostra stupida attimo di silenzio e lui fa questa nostra stupida bibi oh io ci sto eh fatti 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 che Diego ci sta a vedere di sgorso comunque a prima e bisogna stare in famiglia a più ma ci spero nella coppa Morganella c'ha look diverso raga per l'occasione siamo tutti concentrati bene per l'occasione dobbiamo vincere però eh questo vince? vabbè vabbè adesso ragazzi massima concentrazione eh dai oh le mi ha detto che è un suo sfermato zoo eh eh poi poi dite quando dici di sgozzo come un capretto eh ora dopo vedo tanto mi sto paura prima le cose importanti poi è ovvio occhio al pallone filtrante grande giocato è la tua è la tua eh no no subito subito dai capucciata no dubito becca ha parlato eccolo raga concentrati pure in difesa eh soprattutto bello rimbalzata sul corpo del difensore si ripartirà con un calcio d'angolo occhio al corner che raga il pallone senza problemi chiama la ricca no guarda che cazzo te stoppo che ma fa risposta mitä ma miaéré in diamonds il giocatore più e muro quis muuro dai 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 però mi tieni ma nel cassino ok ha ripreso perditore dei pazzini ma non è gestito male mezzo è eccolo terzo tempo eccolo ma c'è l'esultanza tua un po ecco la barba ma chi è milco questo accanto a voi mamma mia che tempo che ha preso mamma mia terzo tempo e golli sto meglio che la barba sei più british lui che la barba è più forte ma me lo contano come assist a sto gioco no chi cazzo ma passata nessuno bella rivestare così è spettacolare bambini che paolo no bravo bravo così ah ma io mi sto a farmi sentire mamma mia cambia nel fronte all'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo bello a me sta a piango così dal pallo laterale quanto da muro si gara buono buono chamarone a me era malvagio se lo superato stavo un po' a me è riuscito a interrompere la trama con un buon intervento oh no regà mi ha laggato del brutto mi dicevo ma perchè non me la passa non me la cazzo non me la cazzo assuma dunque l'azione all'attacco non me la cazzo non me la cazzo per su non ce l'avevo preso ho spazio per andare si taglia in mezzo al campo ooooh fuori gioco scusa ricca nooo non era fuori gioco eh nooo io pure non mi toccare fuori gioco si farò vedere i compagni si farò vedere i compagni si farò vedere i compagni ah che cosa il nuovo tocco del difensore si ripartirà col corner occhio al pallone in mezzo non si impida spazza via di pugno oh oh ma che go va bene nooo 3 a 0 possiamo stare pure quasi sicuri dai ancora attrezzatrisi come stavo qui ci ha provato niente il figuro qua niente non è mai sicuro beh noi quando avevamo perso siamo a perdere 3 a 0 al primo tempo era una partita ma ho vinto 4 a 3 poi 3 a 4 a 3 con il card era la coppa era la coppa si si mamma mia c'è campo per la ripartenza vai che adesso sta in gioco vai da diego l'ho portati via ne lo ruba no noi pensavo che vado 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 poteca vuol vado vado la danese nella fine di sciambellone no che era tutta la torta paradiso che parte sa che ancora ancora non abbiamo scoperto dovrebbe essere una torta paradiso non la chiamamo così qua ai balazzi ah ne stai ok non ci va più su instagram perché? perché è una strunza cioè lui non gli ha mai scritto non gli ha mai fatto un cazzo e lei è una strunza perché che ti ha fatto? perché è una strunza? non mi va, seguo, non mi risegui sei una strunza guarda le storie, devi metto un mi piace però non mi risegui, allora basta perché io vedo sto dietro a un cane un cane? perché si sta mi ha messo un mi piace oh, Dani qui si so io non posso io non esulto io non esulto io e invece esulto ancora di più perché loro hanno la pretesa di essere la Roma si, si è sbagliato salgono anche i difensori su questa corna e non pericoli in più per loro cross verso il centro dell'area vuole un intervento del difensore cosa si fai su un tazzo a quella che non vuoi di sultà? che altro che mai? cerchio cerchio, mi pare L1 cerchio cerchio totti c'hanno, eh ma c'è pure il capitano guarda quei capelli lunghi L1 cerchio cerchio io ci giocavo insieme capitano no, raga, io invece gli esulto perché qua c'è proprio io qua gli esulto come, oh cioè questi si sono permessi da da ricreare il giocatore dei totti sbagliatissimi no, che è? per me tu gli tiralla lo sai dici ma sento di segnare Roma perché hanno creato sto sto conflitto interiore è un problemone il conflitto, eh non è un problema che è il tocco di prima suo continuano a girare palla cercando il momento giusto dai, poi li c'è la cosia mamma mia, pure il portiere è il da Roma non è il parlo laterale distinto il difensore spazza via e c'è la conclusione c'è la parata dai, ma che meno male è punizione eh, ma che la tira Francesco no non c'è la città Francesco a parte che totti la tira di seconda quindi ecco vabbè totti che recupera dai, l'ho data barca madonna scusa è quello è quello ottica recupera la difesa non si è mai visto però non di cazzate dai manca se di cazzate di cazzate da, che stavo a giù di cazzate che te li ritrovo dai, ottica recupera manca se dici quando manca la gavi quando tu la fa la gavetta andava a recuperare era già raccomandato era già Francesco totti palla riconsegnata agli avversari mamma mia che palletta oh stai facendo palo eh ah che cazzo mi sento capito mi sento mi hanno preso per culo totti ecco che mi hanno preso per culo totti con quel personaggio quindi faccio vedere come deve giocare se te fai totti devi sapere giocare perché sennò non va bene io sei un fenomeno sennò tu puoi fare sennò te fai Morganella te fai Sarzanelli che è stato sempre uno che ha militato sempre in serie C capito così lo sai stavo a leggere su Sky di Morganella che se sta al trasferimento non mi ricordo dove ho letto l'altro ieri all'FC oh vantaggio questa è la buona fagliamare non era che faggò c'è potevi prendere le testa appoggiala entrava tranquilla è andata a fare vantaggio 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 su di lui eccolo non ci crede più Sarzanelli da 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 va bene stiamo giocando bene ah no tra vieni di marcatotti ho visto cani giuris ma fori gioco scusa no 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 stavolo da Kill ti ho preso vai 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 Ti però spegnete di vedere Tipo quando stava al cinema Tipo rito, capito, il problema Immersione totale Dividi in inglese, se no in italiano non c'ha senso Dividi in inglese No Oh Ma era strada con la pallare Chiamava la pallare con lui No, lì c'ha con la il tecnico online, è vero Un assonato Un assonato Come con chic Che cazzo di palla La mette in mezzo Oddio Morgan, credici Ma mamma mia il pallone No, non ci ho creduto, hai detto bene Ma aspettavo mai Questa cosa Volevo tirare E c'è la conclusione Belma Il portiere nostro sa far mostro Da salva po' la vita Sarà corner a disposizione Corner battuto in mezzo Non battuto male questo corner Prova a sorprendere il portiere Sicuro, intervento del portiere Perchè mi ha dato a me Un manco di occhio Ma... No Bella No No Ha girato Ha girato Devi tirare una bomba da niente Eh ho tirato una bomba Ha girato Saranno trenti minuti di recupero Minutino E secondo gli allenatori No Bello di è Un uccidore non 2 o Può crozzare Aia Arrivano le torri Per cercare di sfruttare questo corso Mi sono ammirato Palla verso il centro dell'area Ma che sto io? Vabbè L'altro rimpallo Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Massa che palle Ma la traversa Stava gioca bene comunque Stava fa girato Ft10 eh Ehm Ehm Domani lavori Occhio Come era il bagno C'è il tocco sulla fascia Este palla è madre Caligiuri Attenzione al movimento dei compagni Pericolo Ecco il tiro Ehm Ecco No no ma stavo fuori gioco Fuori gioco Fuori gioco Guarda come sa l'er difensore eh Ehm Ehm Fa la tattica Bravo Bravo qui il difensore che Legge bene questo pallone No Bravo con lancio lungo Bene qui il difensore Capitano di testa Ho visto due tre volte E basta Piuttosto ci si girava Ci saltava portiere Ma che si va da destra Ehm Vado a destra Vado a destra Ehm Palla che rotola via Palla che rotola via da un buon intervento Dai giu stai Ma quello che è batistuta Hanno fatto la prima volta che è batistuta No non batistuta Ehm 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 Raccontami il batistuta che non abbiamo visto Riccardo Ehm 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 Stanno due infortunati uno nostro uno loro Dai uno sono io Porco mondo Ehm 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 Come il primo provico Intervantate Oh Regà Cambazzopata Ho Guarda Surtà Infatti Oh Questo può fare il cucchiaio Zitto Nooo Questa è il brave Moise Da giocata Giovedì Ehm Ehm Non so La squadra favorita ragazzi stanno gestendo ma come è possibile così ha detto era una squadra favorita è difficile se è favorito qua Epic vuol dire che sei proprio uno squadrone ma vuol dire loro sono più giocatore cosa sta crepando io ho ancora più nooo ma ha fermato vai bravi Movic io ti spacco nooo un po' io eh Francesco ti unisce gente bravi danno vai a parte gnazzi ma poi che far coglione così ma che schifo ho visto questo non meritava la masconfield ma che non è simile? quella era Francesco Fotti era Francesco Francesco Fotti hanno spezzato bene la trama qui se no è per fratello eh quello ciccione dato a T-School mamma mia che è ricca ho trovato si riprenderà con un corner vedremo se riusciranno a sfruttarlo al meglio per trovare il gol del pari paga che culo ha il stile in pallio nooo ma è loro si avvicina all'aria ok il tocco dentro buono l'anticipo del difensore sventa qui la minaccia no ma è passato il gol ma la pena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol cambierebbe il risultato ferma l'azione recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta lo usai? palla larga mamma mia quindi faccio come con l'Empoli spacco tutto ci stanno faccio capire una valla oh oh no bella no no oh sono solo a 2 se voglio guarda che è appazzata non l'ho visto scusa di qua no no forse ho avuto e comincia un'altra azione importante a cazzo del pari come ti copierà? non lo so perchè fa così il quarto uomo segnala due minuti direttamente ahhh avrà la fine con il controllato a fine marvagia lì abba ha fatto proprio lui vabbè posso accettare la sconfitta solo questa cosa però stiamo in divisione 3 sono stati più concreti per quello è vero colpa mia ho preso qua la traversa ho fatto qua la resciata a un boccar difensore è vero è vero è vero è vero però ci abbiamo la divisione 3 è vero noo è vero ma fanno un po' a tutti questo guarda qua ci riesci a dedicami in culo nuvolte qui müsse prendere 2 falling perché sei uno buffo non riesce a fare il tuo percorso si è un vuoto guarda che i numeri parla raga uscite perchè? mi ha fatto uscire la partenza beh se vogliamo uscire raga eh no c'è la data come sconfitta beh no infatti capito però c'è uscimo o no qui? che fanno? dai uscimo dai uscimo grazie prima ora tocca chiamata telecom però o no? eh me sa desi o me sbaglio metti una live su youtube o provi? te sbagli per niente? beh intanto il power è il power up un po' accarmato eh molto e invece noi curavamo un cazzato mio prima stava nervosito non parliamo non parliamo della pre-live per favore senti come lag ti è senti come lag ti è? è sbagliato no daniel? va bene va bene che lag io tanto ci parlo lo stesso vabbè giusto ma chi è che sta scartare merendine a quest'ora cazzo? è riccardo è riccardo mentale nello scartare merendine a quest'ora eh? è riccardo eh no ma che so io? no vi giuro è sbaglio perché si è fatto il power up e devi compensare c'è la fame c'è la fame ora si mangia mezzo joystick ma come è che si gira più il giocatore? ti è mangiata analogico mi mira più bene la certa vedi che corre solo il giocatore ne la passa più no sta fermo sul posto no? solo quando arriva la palla la passa preme x no? ma è stato a D che te sei mangiata una roccia aprilia prorica no questi hanno pure il quartiere se ci è barca non li imbocchiamo guarda sto portiere solo che palla tirata c'è spazio davanti bello va bene va bene è morto qualcuno ne sa che si più sentito niente era una cosa solo per noi due capito se voglio parlare solo a lui te l'ho cazzato io per così mi distrae riccardo mi chiama e parla ho pure mezzo a biocchia io è arrivata allora allora i vada per meglio nelle prime partite stai stancato no lo dà il dagno ah è buono tanto è bello quando si rialzano che si recuperano il pallone nooo ci hanno mamma mia rischio questo è il rischio di mortacci nooo ah io mi scordo sempre che stavo online mi danno bene quindi un'ora chiuso che ti passaggiano non mi fai scusate ragazzi nooo partita la connessione partita la connessione addio ciao da aglio 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 nooo nooo ma che ti sei mangiato mi sono mangiato ciao ti vai via occhi giuditi la difesa alla meglio e allontana il pallone provo pagissimo dai no c'è stato 93 le realizzazioni mi tengo tutti io mi tengo tutti io mi hai detto c'è da sotto te écī mi troppo i amico eil bò oh danī oh ah ma c'è sto te nero d'anbupo io che è normale il battaggie Manca la foto con la coppa M'hanno fatto palo Mi chiesto di scommersi Minaccio Oh Oh Buonasera Vai Dai 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 Siamo più bravi Ci demoralizziamo Eccolo subito La persona che si perde Senza possibilità Puttuale quindi Difensore nel recupero Oh scusa Scusami Come stai Ah Paffa che male male Ragazzi Sato che cazzo fai Se non c'è nel mezzo Rientra Ne so un cartone Ti dirà Devo lanciare il Joyce Guarda porca Oh vabbè Vabbè ma ce l'ha con me Comunque adesso Quando è così sai che devi fa Scegli una cosa Scegli una cosa E falla Dai No Fai niente Capito Vedi per esempio io Perché a Danilo Adesso non mi ha laggato Dai 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 Siamo fatto Recuperi migliori Che peggiori Più difficile Siamo fatto Oddio 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 Siamo fatto No dove sei nato Eh che forza Avevo fatto il pezzo E' come se era zittito dai che me rifaccio ormai è demoralizzata che ogni volta che sbaglio da ieri dai niente E' uno dai, no Io una certa ero sparito l'ammezzo Entriamo anche i bot che aiutano Cominciamo a dire Eh se il bot è dai, giochiamo e va A spazio per andare No Infatti mi so il bot Mi chiedi male col fan Io mi chiedi male Ho fatto tre incazzati Ho fatto ma che te vuoi Vabbè pure io me lo so mangiato il gol lì eh Dai 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 Mi so cagato fuori Noi puntiamo al 5 a 4 Perché al massimo se cadiamo facciamo il quattro pari Ma chi è questo? Ma a me è Damiano Ma è Damiano Ma è Damiano Ah giovedì l'ultima Se ci stanno Tu lo vedi tu mi non lo vedi? No Sì Damiano dove Posso vederlo dopo io Non lo vedi tu mi vedo Oh ok Oh ok Morganella Può avanzare Oh ok Oh no guarda che cazzo Scusa Scusa Riccardo Non pensavo che andavi in cura al mondo No No Siamo confusi da colpirci da soli Oh Allagato è brutto Eh pure a me Oh no No Un tacchetto lì Mi ho tirato Guarda come mi ha tirato Guarda che cazzo Guarda che cazzo Guarda che cazzo Ammetri da la caccia Attenzione Ecco il tiro No Bello Grande intervento Per liberare l'area mi portavo di copia vogliono, dai che stai coppando dai dai credevoli non è finita vai vai nooo l'ha bloccato azarzanè uuuuuh se no vale che abbiamo fatto il vado, buono, buono quella raguola bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla pallone interessante può far male da lì tutto pronto per la battuta di questo calcio d'acqua o le la difesa alla meglio allontana il pallone bello il tentativo precedente stiamo passando solo per me quanto tanto c'è spazio per andare uuuuuh 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 niente vabbè pure le fifa che sta di male che non ha passato il pallone ha visto uno spiraglio si è lasciato ingolosire sperava sicuramente miglior sorte cercare il buco della difesa avversaria uuuuuh e chi per fare il passaggio si ferma nooo chi non può fare il passaggio in corsa cazzo nooo ma stavo da solo staccavi niente non ci credo non ci credo bello rin nooo guarda cosa si è messo il portiere qua ha fatto la stessa cazzata mia non ti ricordi? si ma lui si è messo come mentre ho tirato non primo ma come fanno a spostare portiere così? ma come fanno a spostare portiere così? uuuuuh buon intervento hanno spazio per andare in contropiede a un'autostrada di protezione dai dai buon danno bella dia grande e poi l'ultimo lo teniamo sembra ancora lontanissimo dai che si può fa mancano 9 minuti ma che si può fa dai che si può fa dai che ci ho creduto fino alla fine mamma mia lì dai che si può fa dai che si può sai che si può fa sto sei in questo perli ania un altro ottimo passaggio dai che si può fa dai che si può far dai che si può dai dai ie Dai, stiamo solo 4 cose sotto, regà Dai, tranquilli Quattro minuti Vabbè Dai che sei Mi hai inculato No, non sto, bello Oddio Dai che sei po' fa, ricca Dai che sei po' fa Ricca, solo perché fa Riccardo come raggia Te vedi e me Te vedi e me, passamo Vincemoti a Galazzo Non te lo dico, fidati Abbiamo già vinto, siamo già passati La c'è una da cerca La c'è una partita No, contamo, regà E' eccezionale Regà, sbrigate per entrare Stavo in live Staccate e venite a giocare Alla ti serve sapete Damiano Non ti uscite il danno Esce Io sto sci Calcola Ah, facciamo dire Tocca un sci o no Io sci No Io faccio esci Mi sono bagnato qui Né Damiano Né Damiano e Né Amade Ci stanno Io vado Ma Vado a trega Ah, stavo quando avvia Io sì Sì Stavo Come a chi Denti Ma perché Riccardo c'è sto mongoloide Col cappuccio Come a vado Ma chi è che c'ha nessuno Ah, beh, dai Se vedevamo, regà Sì, sì Allora dai YouTube Allora dai